Gentili telespettatori, buona giornata. A Palazzo Chigi si parla di siti occulti, quel mondo di mezzo che vuole praticamente far cadere questo governo. Nei corridoi del Palazzo Principale del Potere, Palazzo Chigi, ci sono alcune piattaforme online che sono salite all'attenzione. Queste piattaforme online definite un mondo di mezzo e sarebbero tese a depistare il sistema intorno a temi cruciali, siti occulti la cui identità è tenuta nascosta, siti apparentemente innocui ma che in realtà possono contenere messaggi in codice, cioè notizie false anche. Nei corridoi del Parlamento e nei lunghi corridoi di Palazzo Chigi c'è chi è certo che dietro alcuni di questi siti ci possano essere ex uomini dei servizi segreti. C'è chi va oltre perfino affermando che dietro a questi siti ci possano essere spezzoni di finanza che un tempo risiedeva nell'intelligence italiana. Sono tutte spie luminose che affollano i corridoi di Palazzo Chigi e arrivano ovviamente all'orecchio di Giorgia Meloni, di Mantovano. E si chiedono un po' tra i palazzi e nei palazzi ma chi sono? Ma cosa sta succedendo? Chi sono queste persone? Che obiettivi hanno? Il retropensiero è uno solo che coincide, vogliono colpirci. E l'ordine di scuderia nei palazzi principali del potere è quello di chiudersi a testugine come le legioni romane, blindarsi ancora di più. Ma questa volta rispondendo per cercare di capire chi si cela dietro. Chi si cela dietro? Dietro secondo me non c'è una sola regia che muove tutto. Ci sono diversi soggetti, diversi gruppi che autonomamente, senza che uno conosca probabilmente neanche l'altro gruppo, stanno cercando e stanno facendo tutto quello che possono per cercare di far cadere questo governo. E quindi a Palazzo Chigi cercano le talpe, le cercano nel Palazzo della Cultura, al Ministero dell'Agricoltura, persone che fanno il doppio gioco, che magari si travestono da fedelissimi e in realtà passano tutto quello che ascoltano, registrano e vedono, passano a delle strutture, a degli apparati occulti che raccolgono informazioni da passare ai giornali fiancheggiatori, a parte della magistratura, per tentare di tirar giù questo governo. Se voi ci fate caso, in un modo o nell'altro, già oltre mezzo governo è implicato in questioni giudiziarie, problemi di tutti i tipi, separazioni sentimentali, storie di tradimenti, storie di tasse, di tutto. Ecco, viene fuori di tutto. È come se le persone del governo siano spiate costantemente da vicino da qualcuno che spera di trovare prima o poi il passo falso per poterlo poi mettere in piazza. Bene, diciamo che a questo punto si parla di dossier, depistaggi, siti occulti, il mondo di mezzo, ricostruzioni di complotti di ogni genere dai berlusconi a funzionari infedeli e pertanto poi non si riesce più a capire quando si parla di tutti questi complotti qual è la fantasia e qual è la realtà. I dati sono diversi. Il trasferimento di fitto che andrà in Europa aprirà probabilmente i giochi di un piccolo rimpasto creando dei piccoli anche scossoni nella maggioranza il caso Balneari, le proteste dei tassisti il caso Striano, il caso San Giuliano la linea Mantovano questo dossieraggio di cui se ne parla poco anche perché è una cosa abbastanza complicata e a prevalere sarebbe anche la linea di Mantovano secondo il quale i nostri apparati di intelligence e in tal caso l'Aise svolgono un lavoro incomiabile che non può essere macchiato di frettolose e approssimative ricostruzioni diciamo che dopo il caso San Giuliano il senso di accerchiamento è salito molto si chiedono dalle parti di Meloni va bene, adesso chi sarà il prossimo? visto che è Sgarbi, è la Sant'Anche e San Giuliano e poi Del Mastro e poi il Pistolero di Capodanno e poi Arianna Meloni il complotto, la separazione con Lollo Brigida e poi il caso Gian Bruno si chiedono chi sarà adesso il prossimo? certo che sono passati due anni e già mezzo governo ha avuto problemi quindi ne mancano altri tre alla fine dei tre anni quante ne saranno successe? in questi tre anni adesso non succederà più nulla? probabilmente succederanno delle cose perché se hai delle persone che ti spiano da vicino prima o poi viene fuori qualcosa verranno fuori altre cose io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie grazie grazie